Alle prime luci dell'alba nelle province di Napoli, Salerno Potenza, Catanzaro, il personale della Direzione Investigativa Antimafia del gruppo Carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica di Napoli hanno dato esecuzione a provvedimenti cautelari personali e reali nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Potenza su un traffico internazionale di rifiuti speciali tra l'Italia e la Tunisia. L'operazione ha visto impegnate circa 80 unità tra carabinieri del reparto speciale dell'arma e personale della DIA. L'inchiesta era scattata nel 2020 quando dal porto di Salerno partirono alla volta della Tunisia diversi carichi di rifiuti speciali stoccati come plastiche. Una parte di quel carico fu incendiato non appena giunto in Africa e causò uno scandalo in Tunisia che costò l'arresto all'allora ministro dell'ambiente tunisino condannato per questa vicenda. Le indagini erano partite da Polla in provincia di Salerno e poi si sono estese fino ai vertici della regione Campania. In manette sono finiti stamattina diversi imprenditori del settore rifiuti e un funzionario della regione Campania mentre un dirigente regionale è indagato a piede libero. Sotto sigilli sono finiti beni strumentali di almeno tre aziende che si occupano dello stoccaggio di rifiuti.